In chiusura una notizia, è morto Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano e sindaco di Sesto San Giovanni. Come è morto? Era malato da tempo, era nato nel 52, questo giusto per questione di età, ed è stato anche al centro di una lunga inchiesta giudiziaria. Lui stesso qualche tempo fa aveva detto, mi è venuto il cancro anche per i miei problemi giudiziari.